Un sentiero fatto di fatica, sudore e memoria storica. È il Sentiero dei Minatori, progetto realizzato grazie a fondi regionali per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario di Letto Manoppello. Grazie ad un'opera di riqualificazione i visitatori potranno conoscere la lunga storia di estrazione e lavorazione del bitume nel territorio dell'attuale Geoparco Maiella, percorrendo il Sentiero dei Minatori. 3 chilometri di trekking con la possibilità di visitare per 30 metri la miniera Santa Liberata. Sull'iniziativa sentiamo il sindaco di Letto Manoppello, Simone Romano D'Alfonso. Abbiamo oggi riportato la memoria dei nostri avi, dei nostri nonni, dei nostri padri, dei nostri genitori che quotidianamente frequentavano o percorrevano questi percorsi per andare a lavorare. Invece oggi abbiamo avuto la possibilità di riaprirli grazie a un finanziamento regionale, quindi ringrazio il presidente Marsili ma in particolare il consigliere Blasioli, Antonio Blasioli, che ci ha permesso con un finanziamento di poter mettere in sicurezza questo sentiero e quindi di poterlo aprire a coloro che appunto ci vorranno venire a visitare qui a Letto Manoppello. Presente tra gli altri alla cerimonia il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo. Un percorso molto bello, un'iniziativa molto interessante, faccio i complimenti al sindaco e a tutti quelli che hanno contribuito alla riscoperta di questo percorso. Penso che sia un'iniziativa molto interessante sia per la capacità di attraverare turisti ma anche per contribuire a rafforzare l'identità di questo territorio e a trasmettere ai giovani. Il progetto infine non si ferma qui, ancora il sindaco. Contributo massimo di 3 milioni e mezzo darà la possibilità, attraverso l'ex presidente D'Alfonso, darà la possibilità di unificare i nostri territori con il distretto minerario, ridare luce a tanti luoghi dove i nostri minatori lavoravano e che venivano da tutti i comuni qui del comprensorio, parlo di Roccamorrice, Abateggio, Turi Valignani, Scafa e quindi con questo contributo sicuramente potremo rivisitare in tranquillità e in sicurezza tutti i luoghi del distretto minerario.